La sua presenza a Salerno per portare qui anche un'arte antica, una filosofia di pensiero che non è assolutamente solo un'arte marziale. Ha detto che non è soltanto un'arte marziale ma è un filosofia Kung Fu e che viene dalla Cina. Quali sono i concetti fondamentali del Kung Fu proprio come filosofia? What are the basic concepts of Kung Fu as a philosophy? Ok, for example, I'll give you very very simple example. Benefit yourself, benefit others. This is from Kung Fu, from Kung Fu philosophy. How to translate, how to explain to you? Benefit yourself. It means when you do the Kung Fu, your body is very very healthy, make your body healthy. Then you can do other things to benefit the world. Ok, he can very simply condense the philosophy of Kung Fu into… Ah, sorry, I'm so sorry, I get confused sometimes. Ok, il maestro ha detto che il modo semplice di spiegare Kung Fu è che prima si deve fare una cosa che va bene per voi, per stare bene nel stesso. E così comunicando questo benessere interiore può essere un beneficio per tutti intorno a voi. Secondo lei in alcuni casi in occidente il Kung Fu viene banalizzato? He said in some areas of China, Kung Fu has been banned. No, everybody, all people can do the Kung Fu. In China, different people can do… You know, we have a different type of Kung Fu. Not only one Shaolin Kung Fu, that's Shaolin Kung Fu, more famous. And that's Yung Chuan, that's other martial arts also. No, lui ha detto che in Cina non è un bandato, non c'è nessun divieto, c'è diversi tipi di Kung Fu, c'è Shaolin Kung Fu e altri tipi, ma tutte le persone e tutte le età possono fare. Parliamo di questo appuntamento a Salerno che sarà sicuramente di grande richiamo. Sì, noi facciamo parte della scuola Media Tasso di Salerno dove abbiamo un progetto Shaolin a scuola già da nove anni e noi come scuola siamo stati riconosciuti dal monastero e quindi abbiamo la possibilità poi ogni anno, a fine anno, a fine corso, di far venire qui a Salerno uno dei monaci che rappresenta il monastero per vedere il lavoro che stiamo facendo. Prosegue l'offerta formativa della scuola Tasso di Salerno anche con un'apertura all'Oriente? Certamente, non è il primo anno, sono già alcuni anni che noi accogliamo questa brillante iniziativa che rappresenta un valore aggiunto per il percorso educativo didattico della scuola secondaria Tasso. Devo dire che rappresenta un valore aggiunto perché si parla ovviamente di armonia nella cultura cinese e lo stesso concetto di armonia è sviluppato anche nel sistema scolastico italiano quando si precisa che bisogna formare in maniera armoniosa la personalità di tutti gli alunni. E' a maggior ragione in questo scorcio di società attuale quando viviamo un sistema particolare molto complesso e quando si chiede a tutti i governi, a tutti i paesi a livello planetario, a livello globale di unirsi e soprattutto lottare affinché ci sia un sistema, una strategia di sviluppo sostenibile. E si parla quindi anche di scuola sostenibile, di scuola inclusiva che punti alla qualità, all'equità e quindi anche all'inclusività. E mi fermo qui.